Salve amici di Cilento Channel e benvenuti ad una nuova puntata di Cilento Focus. Per questo appuntamento ospiti in studio Giovanni Vita, Carmela Veneri e Aloia Luana, tre componenti dell'Associazione Cilento Terra Solidale che si occupano anche quest'anno per la terza edizione della manifestazione Sapori d'Autunno Sport e Solidarietà. Allora Giovanni cominciamo da te, spieghiamo ai telespettatori di Cilento Channel come nasce l'Associazione Cilento Terra Solidale. Allora l'Associazione Cilento Terra Solidale è un'associazione culturale con sede a Canna Longa. Allora lo scopo di questa associazione è, secondo sempre l'articolo 118 della Costituzione italiana, è appunto quella di promuovere interventi ed iniziativi, atti a organizzare rassegne, mostre, concerti e promuovere prodotti tipici locali nel campo enocoastronomico. L'Associazione intende proporsi principalmente come centro di coordinamento, impulso e valorizzazione di tutte le risorse umane e strumentali disponibili a livello locale. Nel perseguimento delle finalità indicate nel precedente articolo, l'Associazione potrà svolgere seguenti attività. Organizzare e gestire direttamente manifestazioni di carattere ludico. Favorire la crescita culturale dei soci e in generale del pubblico anche attraverso iniziative di formazione specifica, realizzate in collaborazione con enti locali, associazioni, scuole, istituzioni ecclesiali, eccetera. Valorizzare le tradizioni popolari. Partecipare alla realizzazione di rassegni e concorsi culturalmente qualificati. Favorire la partecipazione dei soci e del pubblico ad iniziative di ricerca, sperimentazione e formazione. Promuovere e realizzare ogni altra iniziativa, direttamente o indirettamente, rispondendo alle finalità dell'Associazione. Promuovere azioni atti e realizzare ed organizzare opere di solidarietà e di informazione per le persone con disabilità di ogni genere. E collaborare con associazioni di categoria nazionale e settentrionali per ogni tipo di problemi. Grazie Giovanni, ricordo che i nostri ospiti sono giovanissimi e si occupano per il terzo anno consecutivo di questa bellissima manifestazione dove il ricavato ovviamente va in beneficenza. Carmela, allora a te invece vorrei chiedere come è strutturata. Sappiamo che ci sono tanti rami di questa associazione, raccontiamolo anche ai telespettatori. Sì, appunto questa associazione è divisa in tre settori. Il primo nel settore della solidarietà, quindi si fanno per esempio la vendita per la scleresi e per l'AIL e appunto questa manifestazione i sapori d'autunno. Nel secondo settore ci sono dei progetti, lavori da realizzare in collaborazione con partner di settore tipo Insieme per la vita Ollus e questi lavori per esempio sono agricoltura sociale, progetto per fare turismo oppure assistenza a handicap. Il terzo settore invece riguarda le attività ludiche, per esempio feste invernali, feste estive oppure mostre d'arti e progetti con le scuole. La nostra associazione ha delle interazioni con altre associazioni, per esempio la Fittel, l'Aix e altri comuni e comunità montane. È divisa in settori d'età, settore junior, settore dei giovani, settore adulti. Avremo convenzioni con la Unipol Assicurazione e abbiamo aperto un conto corrente alla Unipol Banca la quale farà, a chi vuole donare per la raccolta fondi per beneficenza, lo potrà fare attraverso il codice IBAN che sarà diffuso. E che lo facciamo vedere in sovraimpressione. Chiediamo alla regia ovviamente di mostrare quel codice IBAN per chi vuole donare già da quando si sintonizza su questo canale. E continuiamo con Luana che in occasione della terza edizione di Sapori d'Autunno Sport e Solidarietà ci racconterà un po' il programma di quest'anno. Ci sono novità? Che cosa avete previsto per queste tre giorni Luana? Sì. Il venerdì 24 alle ore 13 nella chiesa Santa Maria Assunta di Cannalonga ci sarà il corso ECM dal titolo Aggiornamenti non coematologia, rivolto a tutte le professioni sanitarie. Direttore scientifico dottor Giovanni D'Arena, crop di rioniero in vulture e dottor Pietro Masullo, presidio ospedaliero San Luca di Vallo della Lucania. Alle ore 18 saluti e drink offerto da alcune pasticcerie di Vallo e pizzetterie e dalle signore di Cannalonga. Sabato 25 avremo nella chiesa Santa Maria Assunta alle ore 13 il corso ECM dal titolo Aggiornamenti non coematologia. Alle ore 19 l'inaugurazione con esibizioni a sorprese e apertura di stand nei quali si potranno decustare piatti tradizionali a base di sapori autunnali. E alle ore 20 l'inizio degli spettacoli in Piazza del Popolo dove si esibiranno Agel, Regina Renna, Reset, Mirella Gresti e Cilento Music Art, Adriani Martino Live, Leo In, Taranta Nobis e discoteca DJ. Nelle vie del centro storico si esibiranno Vico Sound con mostra di pittura e presentazione del progetto Salviamo il centro storico, DJ Elo e Folk Antico. Domenica 26 avremo alle ore 19 nella chiesa Santa Maria Assunta il corso ECM dal titolo Aggiornamenti non coematologia. Alle 14.30 nel parcheggio località via Cesare Battisti l'animazione e giochi per bambini a cura dei ragazzi della Proloco dei Lachi di Cannalonga con musica e divertimento. Alle 14.30 al campo Cretazzi il campionato di prima categoria. Alle 17.30 in Piazza del Popolo si esibirà la palestra Iron Man con esibizione di balli moderni e alle 18.30 Serenet di Dance & Company con Zumba. Alle 19.30 ci sarà l'apertura degli estende enogastronomici e l'inizio degli spettacoli musicali in piazza dove si esibiranno i Folk Antico, Enrico Sant'Angelo, Coros Mediterraneo, Secret Circus, Ikepo, Agast After Globe, Pina Speranza e Cilento Taranto, Rit Antico, Reset Live e Secret Circus. A mezzanotte e mezza avremo il DJ sotto le stelle. Per le vie del centro storico si esibiranno DJ Yellow e Vico Sound. Durante la serata ci sarà la presentazione dell'ASD di Cannalonga e le serate verranno rappresentate da Asia Molli il sabato e domenica da Laura Motoni e Antonietta Merola. Un caloroso benvenuto a tutti quelli che interverranno e un ringraziamento a tutte le istituzioni, enti, tutti gli esercizi commerciali e tutti i volontari. Ecco, questo è il programma spiegato dettagliatamente per quello che avverrà nei giorni 24, 25 e 26 ottobre a Cannalonga. Voi avete partecipato sin dalla prima edizione a questa bellissima manifestazione. Luana, allora qual è il compito che voi svolgete durante queste tre giornate? Ecco, raccontiamola questa esperienza. Noi abbiamo le postazioni dove ci saranno negozi di beneficenza oppure mostre di arte. Diciamo, ognuno svolge un proprio... Passa il microfono Giovanni così... Ognuno svolge un proprio ruolo appunto assegnato dal presidente e si possono, diciamo, i ruoli vanno da aiutare appunto nella vendita dei panini, diciamo nella vendita del cibo a appunto nella vendita di... Di bevande, quindi... No, di... Oggetti? Di oggetti che sono stati donati da alcuni negozi di vallo e non. Carmela, raccontiamo quanto è importante per voi partecipare a una manifestazione che devolve, insomma, ricavato di tutto quello che voi... del lavoro che voi svolgete a delle persone che ne hanno bisogno. Sì, noi da quest'anno, diciamo, noi ragazzi facciamo più parte perché grazie a questa associazione anche noi ne siamo dentro. E' una cosa diversa anche per noi, infatti, diciamo, abbiamo molta voglia di aiutare appunto per questi fondi che andranno in beneficenza. Ecco, facciamo un invito Giovanni, tu che sei l'uomo del gruppo, facciamo un invito diretto a tutti i telespettatori di Cilento Channel a partecipare a questa terza edizione di Sapori d'Autunno Sport e Solidarietà che si terrà a Canna Longa, ricordiamo i giorni, gli orari, ecco, facciamo un invito diretto. Allora, vi invitiamo tutti quanti voi telespettatori il 25 e il 26, sabato e domenica, per appunto, per assaggiare non solo i cibi autunnali, ma anche a donare per una causa buona. Grazie quindi ai nostri ospiti, ricordo i nomi Giovanni Vita, Carmela Veneri e Aloia Luana, componenti dell'associazione Cilento Terra Solidale. Ringrazio anche il presidente Daniele Rumualdi, presidente per l'appunto dell'associazione Cilento Terra Solidale e appuntamento, mi raccomando, a Canna Longa il 24, il 25 e il 26 per Sapori d'Autunno Sport e Solidarietà. Grazie e appuntamento ad una prossima puntata di Cilento Focus. Grazie a tutti.